Lei sempre il video mi voleva far vedere. Allora, le dico questa questione delle fughe. Questo centro di accoglienza sono quattro positivi. Sì, ma lei non sa, questo lo dice lei che sono positivi. Il video me l'ha fatto vedere lei ora. Io le dico che a tutti viene fatto il tampone, tutti vengono messi in condizioni di sicurezza. Adesso bisogna vedere se questo video che lei mi ha fatto vedere... Sono usciti dalla nave quarantena e sono stati accolti nel centro... Senta, lei vuole... Chi sta in isolamento fiduciario è perché poi sta sulle navi. Quando escono, escono dopo che hanno fatto i tamponi. Quindi, grazie. Grazie, molto gentile. Lei sempre il video mi voleva far vedere. Il video me l'ha fatto vedere lei ora. Grazie.